buongiorno allora stamattina direi di utilizzare il patch che adoro questi in particolare li ho presi su amazon sono anti age con collagene e acido dialuronico si presentano così eccoli qua io l'ho appena tolti dal frigo quindi adesso vi faccio vedere come li applico allora applichiamo il primo sono molto molto sottili infatti non si sta attenti si spaccano tutti e il secondo voilà ok li tengo un quarto d'ora e poi li tolgo ciao il quarto d'ora è passato per cui togliamoli massaggiamo da 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 allora ho massaggiato qua sotto dopo aver averlo tolto e vi dico però la verità onestamente ce ne sono di meglio nel senso che non sono particolarmente imbevuti quindi una volta tolti io onestamente qui si sarà idratato però c'è c'è di meglio e niente adesso applico la cremina che mi ha consigliato l'estetista questa qui per il giorno e basta vado a mangiare un bacione